L'Associazione Arte in Arte di Urbino e l'Associazione Arte Insieme di Comiso hanno avviato un'iniziativa di gemellaggio. Dall'8 al 18 dicembre, sei artisti urbinati saranno a Comiso per esporre le loro opere. Alcuni artisti comisani faranno altrettanto nella prossima primavera, esponendo ad Urbino. L'iniziativa si chiama Ars Grazia Artis, letteralmente l'arte solo per l'arte stessa, una frase simbolica che racchiude la finalità dell'iniziativa. Gli artisti del Monte Feltro, zona nord di Urbino, sono sei. Susanna Galeotti, Oliviero Gessaroli, Giancarlo Lepore, Fulvio Paci, Laura Scopa e Alessio Spalluto. La collettiva di pittura ceramica ed arti visive è stata allestita in due location, la Sala Pietro Palazzo e il Foyer del Teatro Comunale. L'8 dicembre gli artisti urbinati sono stati accolti a Palazzo di Città dal Sinnaco Maria Rita Schembari alla presenza della Presidente di Arte in Arte Susanna Galeotti e il Vice Presidente Oliviero Gessaroli. A rappresentare Comiso c'erano il Presidente Marcello Nativo e il Vice Michele Canzonieri. Sono molto felice, ha detto il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, di questa opportunità con gli artisti e la città di Urbino, una città che reca nel nostro immaginario collettivo tutti i suoi trascorsi importanti da un punto di vista storico e dell'arte. Siamo certi che Comiso sarà all'altezza di ospitare degnamente gli artisti che vengono da Urbino, sia di inviare ad Urbino opere altrettanto importanti e belle. Il Sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, ha detto «L'arte unisce, parla un linguaggio universale, supera confini e distanze». Trovo significativo che questo rapporto di amicizia nasca oggi e trovi il suo compimento nell'anno dedicato a Raffaello Sanzio a 500 anni dalla sua morte. La collaborazione tra le due associazioni che hanno scelto di dialogare nel segno dell'espressione artistica rispetta perfettamente lo spirito di apertura e ricerca della bellezza che ha guidato il Rinascimento e che caratterizza le celebrazioni raffaellesche del prossimo anno. Gambini ha poi ricordato i nomi di due grandi artisti che legano Comiso e Urbino, Salvatore Fiume che ha studiato a Urbino, e Nino Caruso che è stato punto di riferimento per tanti ceramisti di Pesaro e Fano, il germe del progetto di scambio culturale a radici negli anni passati, ha concluso. Abbiamo celebrato al Palazzo di Città, nell'Aula Consiliare, il gemellaggio tra due associazioni, Arte Insieme di Comiso e Arte in Arte di Urbino. Alla presenza del nostro sindaco, Maria Rita Schemper, presente l'assessore Dante di Trapani. Idealmente quindi uniamo due città, Urbino e Comiso. Urbino evoca già scenari rinascimentali, l'anno prossimo si celebra il cinquecentenario di Raffaello. Quindi città importante di grande cultura e di grande spessore. Anche Comiso da parte sua, cittadina chiaramente più recente, ma nel periodo passato, nel novecento, l'istituto d'arte che insiste a Comiso ha scornato artisti, diciamo, professori, allievi che poi si sono distribuiti nel mondo, quindi affermandosi come grandi artisti. Abbiamo avuto una primavera comisana nel dopoguerra, quindi grandi nomi. Salvatore Fiume, Bufalino e assieme a loro, quindi Brancato, Di Stefano, Miceli, Gulino. Ora questo gemellaggio nasce, diciamo, idealmente con due presenze importanti. Ho già detto prima Salvatore Fiume, che è stato ad Urbino da giovane a studiare, e Nino Caruso, un importante ceramista che ha portato in Italia la ceramica a Rago, che è stato quindi nelle Marche ed è stato anche il punto di riferimento per molti artisti, diciamo, delle Marche, del Monte Feltro che abbiamo qui. Quindi nel contempo abbiamo organizzato una bella mostra, quindi sono scese artisti da Urbino, lo stessa Susanna Galeotti, che è la Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente Olivero Gessarò, le opere che qui vediamo esposte. E abbiamo avuto da parte loro il grande piacere di voler far rimanere alcune delle opere del Professore Luigi Pero, che qui all'interno, diciamo, dell'Oratorio dei Filippini, a lavoro di Pessoa Palazzo, ha il suo museo, dice, personale, quindi all'esposizione delle sue opere permanente. Quindi è stata una bellissima giornata, quindi molto partecipata il gemellaggio dall'aulio consigliare, gente, diciamo, molto interessata, amici, soci e curiosi, qui all'interno della sala per vedere queste belle opere proposte quindi dagli artisti di Urbino. Noi siamo molto contenti di questo gemellaggio che abbiamo appunto siglato ieri pomeriggio con la presenza del sindaco vostro di Comiso. Questo gemellaggio è importante perché con Urbino noi ricordiamo anche delle figure, non solo Salvatore Fiume, ma Nino Caruso, che è un ceramista e teniamo in considerazione che è il nostro territorio e ci sono vari ceramisti. E poi un'altra cosa, un'altra figura importante è Nunzio Gulino, che è sempre uno personaggio di Comiso, un incisore che ha trascorso molto in Urbino il suo periodo nella Scuola del Libro e che nel 2020, il prossimo anno, ci sarà il centenario della sua nascita. Per cui questo è una cosa molto importante. Tra l'altro noi dobbiamo anche ringraziare Gulino come associazione perché ci ha donato una tiratura sua di incisioni e di una incisione molto bella di pesci che illustrano dei pesci perché lui ha sempre illustrato delle nature morte e per cui siamo veramente grati anche per questo autore di Comiso. Le opere esposte in questa collettiva sono principalmente di arti visive, pittura e ceramica. Abbiamo qui presenti come artisti Oliviero Gessaroli, vicepresidente, con delle opere pittoriche e di ceramica, Susanna Galeotti, che presenta opere, che sono io, opere di pittura, Laura Scopa con alcune opere della produzione di ceramica che la ragazza produce, non sono solamente qui, però lei e la sua produzione è anche di xiloceramiche e ceramica RACU. Alessio Spalluto è presente con delle opere di ceramica, il professor Giancarlo Lepore con delle opere di scultura in ceramica e ferro e poi abbiamo presente Fulvio Paci con delle opere di pittura. La mostra è molto bella, molto omogenea ed è una piccola parte di quella che è la produzione artistica della nostra associazione. Sono molto lieta di essere stata ospitata qui dall'associazione Arte Insieme di Comiso.